Io mi sono battuta fortemente contro i tagli, sono convinta che il sistema sanitario non ne possa più, ma questo non vuol dire che non ci siano sprechi di risorse. La spesa, è vero che abbiamo una spesa in sanità minore di altri paesi, ma è vero che abbiamo anche un debito pubblico gigantesco rispetto agli altri. Allora ogni denaro speso deve essere speso bene, lo spreco è odioso ovunque, ma nel mondo della sanità è immorale.